che quattro anni fa, il 25 giugno, fui eletto presidente del Consiglio regionale della Toscana. E quindi una serata di bilanci, ma in realtà la faccio tutti gli anni il 25 giugno. Quest'anno è l'ultimo anno perché il prossimo ci saranno le elezioni e quindi, oltre che i bilanci, parlare delle leggi sull'identità toscana, sulla valorizzazione di questa nostra regione, sul modo con cui abbiamo interpretato il senso del rapporto con i nostri sindaci, stasera ce ne sono molti qui in sala, anche la prospettiva. E quindi l'indicazione di quelli che sono, a mio giudizio, i programmi più efficaci per governare e far salire di livello e di civiltà l'impegno politico in Toscana. Naturalmente questa è la stagione dei programmi, io spero in un bel confronto che dia forza compattezza alla coalizione di centro-sinistra perché a settembre, ottobre, si possa concordare anche gli uomini sulle cui spalle questi programmi possono essere affidati perché possono essere realizzati. Presto ancora per il nome? Presto per le candidature, ma come dire, nel dibattito, nel confronto, nella presenza, nel modo di indicare idee e programmi, il Gianni c'è. Gianni, di qua, per favore. Grazie.